ok ci siamo ci siamo giro di pista a monza margine alla guida andiamo siamo già a 130 e siamo appena partiti vedo una staccata la in fondo che arriva quella della prima variante 220 metri per quanto freniamo marca cercherò cerca di frenare wow lo dico io wow che staccata cordolo attraverso di mark laia stai divertendo curva grande guarda che curva grande con la formula 1 si fa in pieno anche con una mano e invece secondo me la faccio in pieno 210 20 la mia città curva grande 30 facciamo la telecronica guarda il pubblico la staccata io non ci arrivo farò te il cordolo questo è un po' che non è il cordolo dove le cronche ha fatto una grande differenza tu mark puoi farla tranquilla guarda questa è una delle mie curve favorite guarda il pubblico guarda il pubblico che bello fantastico l'esmo 2 molto importante qui attraverso quasi in chiaia e adesso arriviamo secondo me a scari anche importantissima qui portare molta velocità quanta gente marca se un'ante che passiamo sempre 230 240 senza grossi problemi 240 si senza grossi problemi per te staccata dalla scari ci puoi arrivare anche sinistra lo facciamo il destra aiuto l'uscita no ma tu sei pazzo tu sei pazzo mark ma tu sei fuori guarda che bella la gente concentrati che arriva ancora una curva mark guarda che muro di gente i piloti li vedono li sentono bellissimo bellissimo parabolica andiamo dentro wow no no 3 metri guarda che perderla la parabolica mi sei impegnato un po' per farlo grazie è stato fantastico vediamo già tutte le bandiere rosse mi hai dato un po' di energia in più per la gara siamo pronti andiamo grandissimo bellissimo casa nostra stupendo stupendo